Ci troviamo a Palazzo Vertemate Franchi, lei da qui ha voluto salutare la comunità della Val Chiavenna, per quattro anni ha comandato la compagnia di questo mandamento, innanzitutto un bilancio su questa sua esperienza professionale. Dal punto di vista professionale ovviamente le soddisfazioni sono tante, le prime soddisfazioni vengono dal personale alle dipendenze col quale in momenti difficili, in momenti di sofferenza e di lavoro abbiamo raggiunto ottimi obiettivi e la soddisfazione viene anche dal ritorno che la popolazione dà, dal senso di riconoscimento e dall'affidamento che la popolazione fa nei confronti dei carabinieri. In questo sicuramente fa tanto il ruolo che i comandanti di stazione e i comandanti di reparto hanno con la vicinanza alla gente, parlando, chiedendo, informandosi di fatti e quello che contraddistingue un po' il carabiniere, che contraddistingue la figura del carabiniere che è sempre al servizio del cittadino. Per me la Valtellina e la Val Chiavenna sono delle terre che hanno dato tantissimo, anche dal punto di vista personale, con la famiglia, i figli hanno cominciato qua le scuole e quindi è un ricordo sicuramente bello che mi porterò dove vado a lavorare. Un po' di malinconia c'è perché comunque si lascia un posto in cui si è stati bene, si è vissuti bene, si è lavorato bene e c'è dall'altra parte però la curiosità e la determinazione a fare bene in un altro posto che è sicuramente, se non più impegnativo, un lavoro differente. Vado in provincia di Reggio Calabria, a Palmi, dove sicuramente c'è tanto bisogno delle forze di polizia, quindi sicuramente spero di fare bene anche lì. Quale operazione non dimenticherai in questi quattro anni? Ma in generale quelle che hanno dato più soddisfazione anche per il ritorno che c'è stato da parte della popolazione sono state quelle in cui sono state sgominate alcune bande di ladri che avevano colpito gli appartamenti. Ecco, lì veramente oltre la soddisfazione di fare il proprio mestiere, di raggiungere l'obiettivo professionale, c'era anche la soddisfazione di vedere la gente che si complimentava e era contenta. Capitano Lega tornerà in provincia di Sondra, non in vacanza? Sì, sicuramente. Lascio tanti amici quindi sicuramente tornerò.